Resto basito di fronte a queste parole, anche in questo momento dove i dittatori veri stanno facendo cose atroci, parlare di dittatura sanitaria ancora, cerchiamo di non avere estremismi. Allora, mi pare di aver capito che la collega sia una collega che sia molto favorevole alle vaccinazioni. Allora, le vaccinazioni per il Covid hanno avuto un ruolo chiave, hanno salvato migliaia di vite, ci hanno consentito con mille difficoltà però di ritornare a rimettere in moto la società. In questo momento non è che sta succedendo qualcosa di strano o incomprensibile, semplicemente stanno, il virus si è evoluto, il vaccino è stato tarato su come era fatto il virus due anni fa, il virus, come tutti i virus, evolve, in questo caso c'è la variante Omicron 2, sulla quale il vaccino ha meno efficacia in termini di limitare l'infezione, perché si è un po' mutato. Però insieme a questa sua mutazione, quindi c'è ancora la delta lì che ci guarda, è la delta di morti ineffattanti. Insieme a questa sua mutazione la cosa positiva da dire è che è diventato, uso termini molto semplici, meno cattivo, termini meno patogenico, quindi in qualche modo l'aumento attuale dei casi che c'è non destra enormi preoccupazioni, non vuol dire liberi tutti, perché in proporzione alle varianti precedenti la percentuale di persone che ha bisogno di assistenza medica importante e che arriva in terapia intensiva è molto inferiore. Quindi diciamo che su questo concordo, ma non perché sono contro le vaccinazioni, che non c'è in questo momento con le varianti che girano nel pianeta Terra nessuno scenario catastrofico per l'estate. Non c'entrano i 20 gradi di oggi, ma semplicemente la variante che sta girando in questo momento in Italia è meno cattiva e quindi in qualche modo ci riusciamo a convivere molto meglio. E quindi un allentamento delle misure in questo momento è comprensibile e logico. Nell'istante, e speriamo che non accada perché solitamente, io mi sono occupato molto di epidemie, ho detto ho lavorato in Africa, le epidemie per fortuna finiscono, quindi anche questa prima o poi finirà. Ed è normale nella storia delle epidemie che si susseguano delle varianti fino a varianti diciamo poco cattive, che fanno poco male al genere umano, nel nostro caso un'epidemia del genere umano e poi se ne va via. Quindi possiamo immaginare che potrebbe essere la coda di questa terribile epidemia. Non è detto perché, voglio dire, con tutte le regole ogni tanto purtroppo la medicina ci presenta le eccezioni e quindi così come ci sono state per altre epidemie può essere che sembra la coda finale e poi c'è una nuova, diciamo, variante invece che torna a essere più dannosa. Se quando ci sarà, e speriamo di no, la variante più dannosa, ci chiederemo questo vaccino funziona per questa variante dannosa per proteggerci dalle malattie perché al di là dell'infezione non interessa essere protetti dai sintomi gravi della malattia. Quindi si vedrà quello che abbiamo e se non sarà più efficace questo vaccino speriamo che ne venga fatto un altro tarato sulla variante che, ripeto, speriamo non arrivi ma dovesse arrivare la variante nuova che ci fa del male. In questo momento io non sono preoccupato con lo scenario attuale, non c'è nessuna catastrofe in arrivo ma non è che siccome adesso c'è questa variante che fa meno male ed è meno, diciamo, il vaccino ci protegge meno da questa variante in termini di infezione allora buttiamo nel cestino tutto il bene che il vaccino ci ha fatto per le varianti cattive e nell'anno e mezzo che è stato trascorso. Quindi equilibri.